E' stata presentata presso la Sala Giunta del Comune di Isola Caporizzuto il programma estivo dal titolo Viviamo l'estate, che intratterrà turisti, passanti e locali. Il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha fatto da moderatore presentando lo staff organizzativo a partire dal direttore artistico Vincenzo Sestito, il capo animatore Antonio Greco, le associazioni giaccheverdi e guardie ecozofile che daranno supporto alla polizia locale per la sicurezza e il controllo del traffico sotto la guida dell'assessore Roberto Puleo. Abbiamo organizzato una stagione estiva molto bella, molto ricca di eventi, in totale sono 54 serate, a parte l'animazione sulla spiaggia e quindi insomma una stagione di puro divertimento, naturalmente nel rispetto delle norme anti-covid. Ritenevamo giusto non soltanto per i cittadini di Isola Caporizzuto che come tutti gli italiani sono stati per oltre tre mesi isolati e quindi chiusi, hanno cercato di rispettare appunto le regole che abbiamo indicato, ma ci sembrava giusto anche per i tanti turisti che vengono a visitare il nostro territorio. La serata madre dell'estate si svolgerà il 14 agosto con lo spettacolo di Mr. David, nonché campione del mondo di street magic e detentore di alcuni Guinness World Records che intratterrà il pubblico con i suoi numeri di equilibrista prestigiatore. Mr. David, special guest della stagione estiva che è un intrattenitore da circo, un escapologo, un mago a livello mondiale e quest'anno ci ha dato l'esclusiva di calcare tutti i palchi del cuburi di Isola, oltre tutti gli altri artisti che abbiamo la compagnia di Giocoloreggio, artisti di strada, Madre Arte di Napoli, una compagnia delle Puglie, quindi artisti seri guidati da Mr. David con la mia direzione artistica e poi tutto quello che sarà la parte concerti a Stiochena, Luna Nera, abbiamo anche la Katma Dumbend che sta salendo di livello con la musica di Rino Gaetano che a noi fa piacere e onore, e poi tutti gli artisti del luogo.